Non mi importa se con questo tiro mi romperò un piede, lo devo fare per i miei compagni che mi hanno seguito e per... Pinguino imperatore! Lo parerò, sì, stavolta lo parerò! Mano di luce! La mano di luce sta facendo indietraggiare il portiere! È davvero così micidiale questo colpo della Royal? Resisti, ma... Ivos sta indietraggiando pericolosamente! Se non riesce a fermarsi, sarà due a uno per la Royal! Ce la devo fare! Ce la devo fare! Questo tiro non entrerà! Incredibile! Stiamo assistendo a una doppia mano di luce! Ce l'ha fatta! L'ha parata! Evans è riuscito a neutralizzare l'ultimo disperato tentativo della Royal! Grande, Mark! Vai, capitano! Ce l'ha fatta! E adesso datevi da fare! Mark è stato fantastico! Dobbiamo ripagarlo! Ci pensiamo noi! Questo pallone aspetta solo di essere messo in porta! Vi mostrerò una tecnica superiore persino alla barriera di forza! Super barriera di forza! Ma che fa? Un momento! Ma quello è Evans! Sta saltando alle spalle di Wallside! Che stiano preparando un altro colpo micidiale! Questo è il famoso doppio trampolino in Azuma! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Siamo i soldi! La Raimon ha segnato al termine di un'azione che ha coinvolto persino il portiere della squadra! La partita finisce qui! La Raimon ha vinto! Incredibile! Dopo 40 anni la Royal è stata sconfitta!